Sì, siamo tornati con il nascondino di balli, lo so, Fari, sei molto felice di vedere questo bel sorrisone, vero? Eh, sei contenta, sei contenta, vero? Oggi si gioca. Allora, sai perché siamo tornati? Perché penso che il nascondino che abbiamo fatto nella scuola di balli l'ultima volta, secondo me, non andava bene. Eh, quello un po', sì, è stato un po' strano. Lo avremmo potuto far meglio. Esatto, qual era il problema? Che, essendo una scuola fatta tutta a rettangoli così, ad angoletti, eccetera, eccetera, tu giravi un angolo e te lo trovavi all'improvviso e non te lo potevi aspettare. Eh, certo. Quindi, tu magari stavi nascosto un minuto in una stanza, poi uscivi e te lo beccavi di fronte ed era un po' un casino. Quindi questa volta, Fere, avremmo questi. Dei passaggi segreti. Però con la spada ho più che ti vedo, Stef. Dei passaggi segreti che ci permetteranno di vedere attraverso, ok? Quindi di curiosare se magari in quel momento sta passando di fronte Baldi, di vedere un attimino e poi magari andare dall'altra parte. Quindi, perché Baldi sarà un po' una tortura questa volta cercare e perché l'altro invece sarà molto divertente. Però si può essere ovviamente beccati perché l'altro può immaginarsi che magari in un posto c'è il passaggio segretto, becca l'altro. Però al stesso tempo potrebbe non succedere. Quindi, vuoi partire tu a nasconderti, Fere? Eh, sì. Ok. Hai un fucile a pompa. Esatto. Lo puoi utilizzare soltanto se trovi cinque note. Ok. Questa volta abbiamo aumentato dato che comunque è più difficile trovarsi. Ok. E niente, quando vuoi puoi partire. Allora, le prime due valgono, no? Ehm, boh, facciamo di no. Ok. Facciamo di no. Facciamo che ne vale una, come sempre. Ok, quindi ne puoi trovare sei totali nella scuola e ne puoi invece però prendere cinque. Cioè, ne devi prendere cinque ma ce ne sono... Si è capito. Dammi il via. Che hai detto? Non lo so. Vai, Steph, io ne ho già trovato una. Ok. Allora, ovviamente velocità, raga, vado subito secco, dritto, eccetera, eccetera, perché questa volta, questa qui è armata di fuggile a pompa. Si può nascondere negli angolini, quindi devo stare attento. Fere? Steph, non sto trovando passaggi segreti, cioè... Fere? Dai, ho proprio... Dove sono? Allora. Dove sono i passaggi segreti? Allora. Ho fatto cinque angoli diversi, non ce n'era mezzo. Mi ha detto che stanno negli angoli. Io mi allontano un attimo. Tu ti nascondi e poi riparto. No, Steph, dimmi dove sono i passaggi segreti. Fere, ovunque! Ok, ne ho appena trovato uno, bene. Alleluia. Allora sto nascosta questa. Non mi muovo più. Beh, ma solo in circa la posizione, muoviti un attimo. Ok, vai. Comunque uno l'ho trovato. Perché ha problemi sempre questa ragazza? Perché? Perché? Dico io, ce ne sono almeno cinquante in tutta la scuola di passaggi segreti, forse anche qualcosina di più. Come fai a non trovarli? Come? Sono difficili. Come? Come si può? Non lo so. Non è che c'è scritto dove sono, scusami, eh. Io parto, qua non è che ti posso dare nicchietto tutto il tempo. Dimmi che qua c'è qualcosa dove nascondersi. Ma almeno hai trovato una pagina. Due ne ho trovato, Steph, te lo sto dicendo da due ore. Ok, ok. No, perché tu mi avevi detto una. Poi nel momento è entrata un'altra, perché qua Steph nel momento stava aspettando in modo gentile. Ok. Ok. Dimmi che qua c'è qualche passaggio segreto. Ecco qua. Mi sembra un po' disperato. Sì, Steph, sono introvabili. Ma Steph, è pieno, raga, è pieno. Dove? Quando mi nasconderò io lo vedrete. E non l'ho fatta io la mappa, eh. Quindi è lei che ha qualche problema. Eh, appunto, mi devi dire, più o meno stanno là. Cioè in uno ci sono cascata dentro. Come l'avrei potuto scoprire, Steph? Eh, oh. Sono ovunque. Ho trovato un'altra pagina. Sì, ma dove sono? Adesso vai tu, no? Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. Molto volentieri ci vado io. Vai tu, Steph. Perché mi sono rotta le scatole. Guarda, sono totalmente arrabbiata che mi metto anche l'angriballi. Addirittura. Ti porti ancora più paura. Eh, cavolo. Allora è proprio arrabbiata. Allora è proprio arrabbiata. Vabbè, posso partire da dove sono, no? Sì. Ok, ok, perfetto. Allora, ti dico appena ho preso una pagina e poi puoi partire. Va bene? Ah, stavo già partendo. Ok, vai. Ecco qua. Tu sei tornato normale? Eh, no. Ah, no. Mi l'ho dimenticata. Eh... Secondo me saresti dovuto essere quello con la testa piccola, eh. Vero? È piaciuto tanto lo sposti video. È piaciuto? Sì, sì, sì. Allora, vai. Ho visto, ho visto Instagram tempestata e te con la testa piccola, quindi è stato molto buppo. Ok, allora, eh, ok, una trovata. Ok, vado. Nel mentre mi sto studiando i passaggi segreti, perché... Alla buona ora. Ok, perfetto. Magari così ho qualche speranza, poi... Ma non ce ne sono in giro! È pieno! Ma dove? È pieno, Zeppo! Ovunque! Cioè, io ad esempio ho preso la pagina, ho fatto tipo cinque passi e mi sono subito nascosto, senza problemi. Proprio easy peasy, Fere. Conosci? Easy. No, secondo me non va bene sta roba, Stef. Tu non vai bene. La mia manina è bruttissima così. Proprio molto, eh. Proprio molto. Allora, teoricamente io so che da queste parti ci dovrebbe essere un bel passaggio segreto, però non ho idea. Vedi che li conosci? No! Maledetto! Non hai capito nulla. Infatti stavo dicendo... Nel senso, so che ce ne sono, ma non ho idea di dove. Infatti, chi può vedere, vede che io sono qua per del tempo a cercarlo. Ma io non ne trovo mezzo, cioè, neanche girando così ne becco, eh. C'è assurdo. Ah, ora sì, ne sto beccando uno. Vedete, raga? Guardate. Era difficile da trovare? Mi ci sono messo e l'ho trovato. E adesso aspettiamo. Non ho idea di dove tu possa essere. Mi dispiace. Non era impossibile trovare i passaggi segreti, scusami? Sì, sì, totalmente. E allora? Perché devono avere un indizio, tipo qui c'è un passaggio. No, così è troppo facile. E comunque non è tanto il passaggio segreto, è la scuola. È impossibile gironzolare in sta scuola. Due pagine. Maledetto. Quindi sì, sono in giro, cara. Sono in giro e sto trovando pagine, cara. Ne sto trovando proprio tante, cara. Ho girato dove non ho girato. Mi sa che sono tornata all'inizio, sì. Addirittura? È una buona cosa, sì. Tre pagine. Yes. Yes. Devo trovare un passaggio segreto adesso, però. Devo trovare un passaggio segreto. Quindi giro. È una buona occasione per trovarlo. Devo trovarlo. Ok. Tre pagine. Me ne mancano due. Non ne ho mai preso allo spawn. Quindi comunque allo spawn, teoricamente, una la dovrei poter prendere. Però ce ne sono altre tre in giro che io posso andare a prendere. Se trovassi il corridoio, quello che ne ha due, potrei vincere così. E a quel punto passerei al fucile a pompa e potrei prendermi la mia vittoria. Con ferro che dice che ci sono troppi pochi passaggi. E invece noi subito, pam, primo tentativo win. Sì, non ce ne so. Che è successo? Cioè che ci casco dentro. Stavo camminando tranquilla, sono caduta in un buco, che dovrebbe essere un buco segreto, però... Vabbè. Ok. Non so minimamente dove sono a livello di parte della scuola. Sono un po' spaisato in questo momento. Perfetto. Ma dov'è? Cosa? Che cerchi? A te. Eh, chissà dove. C'è impossibile. Chissà dove è. C'è impossibile. Allora, io ti ho visto una volta. Proprio una volta io l'ho nascosto, ok? E tu sei passata di lì. Quindi poi sono andato totalmente dalla tua parte opposta, in quella situazione. Che non puoi sapere a livello di lasso di tempo quanto tempo fa era. Ok? Ok. E... Vieni qua. Parca miseria! Ma perché non ho continuato a parlare? Non mi aveva visto! C'era troppo buia! Non mi aveva visto! E ci sono finita per sbaglio lì dentro, come al mio solito. Vieni qua. Anche perché con quella testa piccola è difficilissimo da vedere il tuo player, Steph. Cioè, è un po' un cheat sta roba. Aiuto. Raga, ho paura! Fai fermo, Steph, dai. No, no, no. Non prolungare la sofferenza. No, io la prolungo. No, la prolungare. Se mi perdi di vista un attimo, mi becco un po' il passaggio segreto e è fatta. Continua, Steph. Ti sto osservando, Steph. Lo so che mi stai osservando. Cioè, sto per prendere il cucino. Ti sei nascosto da qualche parte, secondo me. Oh, no. Sta mentendo, allora? Dai, Steph, dove sei finito? Che noioso che sei. Ok. Ok. Che paura! Che paura che ho avuto! Che paura che ho avuto! Mamma mia! Ti sei comunque autotradito tutta la vita. Sì, sì, tutta la vita proprio. Perché mi ha fatto troppa paura. Beh, ti ho detto, ci sono finita per sbaglio. È stata troppa la paura. Stavo girando, boom! La mia recitazione non ha detto. Lo sai che di solito sono bravo, eh? No, certo, certo. Ok, allora. Che stai, dove sei finito? Sono comunque a tre. Cioè, facciamo il video, solo dite che ti nascondi, guarda, basta. No, perché? No, io non lo faccio più. Perché? Sono arrabbiata. Perché sei arrabbiata, scusami? Perché non trovo i passaggi segreti. Eh, ma... No, sono molto arrabbiata. Ok, sono tornato in giro, ovviamente, perché prima poi dovevo tornare in giro. Si capiva del tuo tono? Eh, sono un po' disperso, un po' spaesato. Questa scuola è molto dispersiva, quindi è un disastro trovarci. Puoi viverci dentro, che non ti ricorderai mai lo stesso i corridoi come sono fatti. È una roba davvero impressionante. Però, secondo me... Mi hai visto? Sì. Sicura? Sì. Davvero? Era proprio uno Steph con la testa piccola. Ah, proprio sicura? Sì, quindi sopra sì. Ma ero io? Sì, ma che ne so dove finisci, ma... C'è qualche passaggio segreto? Steph, è noiosa sta roba dei passaggi segreti. No, te lo dico, cioè... Non posso trovarti e poi perderti ogni due secondi. In questa stanza ce n'è qualcuno per forza, perché tu eri qua in zona. Non guardare il mio schermo, me l'hai detto. Non mi hai visto? No. Allora, è aperto una cesca vicino. Dove però? Io sono a quattro. Sto soffrendo tantissimo. Però per fortuna ho i passaggi segreti. Ok. Allora, teoricamente sono a memoria dove è la quinta. Quindi, teoricamente, svolto qua, faccio qua, vado qui. Quinta, fucile a pompa. Ok. Fere! Non lo uso anch'io. No, non puoi. Vieni qua. No, Fere, 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 rispettate. Vieni qua. No, vieni, Steph, prova a sparare, vieni. Fere. Non mi hai fatto arrabbiare. No, devi... Non ti ho fatto... Dove sei? Chi ha sparato? Chissà. Fere? Chissà. Devi stare calma. Sì, sono molto calma, Steph. Non mi sembri molto calma. No, no, lo sono. Dai, trovi i miei spari e vinci, Steph. Vieni, vieni. Cioè, ti sei nascosta? No. Sì, e riferma. No, ti sono nascosta. Sto muovendo. Perché deve diventare Call of Duty, Fere? Me lo spieghi. Perché l'hai voluto tu. No. Sì, che l'hai voluto tu. Io non ho preparato questa mappa, io solo ho dato l'idea. Dove sei, Steph? E a te l'idea non è piaciuta. Beh, è troppo complicato, scusami, eh. Ma quando? Non si trovano sti passaggi. Dove sei, Steph? Non te lo dirò mai. Sto cercando? Ma tu sei ferma, io lo so che tu sei ferma. No, non sono ferma. Sei ferma e ogni tanto fai finta di muoverti. Ma tu sei ferma? Che mi aspetti. Aspetti, in un passaggio segreto. Dove sei? Che paura, oh. Questa è pazza. Questa è completamente pazza. Non lo vuole ammettere. Ma lo è proprio completamente. Mi vuole male. Mi vuole far finire all'ospedale. Esatto. E io ho paura. Il senso è quello, Steph. Se mi fa venire un accidenti, lo so già. No, io ti sto mezzo seguendo, capito? Ma quando mai? Però mi avvicino. Mi sto guardando fisso alle spalle, Ferre. Non mentire. Perché sono molto lontano. Eh, certo. Mi avresti già perso dieci volte. Mi vuoi soltanto mettere timori? No, sto seria. Ti ho visto e mi sto cercando di avvicinare nascondendomi, giustamente. Gli ho messo i tuoi passaggi segreti. Sfruttiamoli, mio caro Steph. Non sei divertente, ok? Che fai? Ti metti pure a bere? Eh sì. Faccio il cattivo. Quindi sei fermo, nascosto. Pronto a sparare. Chi lo sa. Sì, che cos'è. Allora, ci sono gli armadietti e non ci vado. Perché probabilmente sei lì dentro in uno. Ok. Ma mi stai ricercando con la spada o col fucile? Con la spada. Ah, quindi sei tornata leale. Più o meno. Cosa, più o meno? Non vedo da quanto mi fa arrabbiare quando ti vedo. Raga? Raga, ragazzita. Sembrava fossi... Te faiuto, non riesco più a uscire da una parte. Ecco qua. What? Mi ero incastrata in un passaggio segreto e poi tutto a posto adesso. Ok. Ma dove cavolo sei? Pef, non lo so. Ti sto vedendo manco io. Io sto girando apertamente adesso. È da un bel po' che non mi nascondo. Eh, ma anche io. Cioè, così è difficile trovarsi? Beh, quando ci sono i passaggi segreti di mezzo, sì. Perché a un certo punto... Ma non lo sto più usando da un botto. Maledetto. Maledetto. Per più mi ero confuso perché in sto gioco si mira col sinistro e si spara col destro. Sì, 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 lo so. Quindi ho rischiato pure di crepare con la tua spada. Allora, vuoi riprovarci? Dai, sì, vediamo se... Un ultimo round, ultimissime bacche. Comunque testa piccola porta bene. Vai, torna una persona normale. Perché sei invisibile, è solo quello. Io riprendo la spada. Ok, vado. Dimmi quando devi partire. Quando vuoi. Allora, quando trovo il primo ti avverto, no? Mmh. Mh. Ok. Io sono tranquillo, tanto. Vediamo se riesce a farsi furba. Ah, facciamo che il mio primo... Ha avuto 15 minuti per esplorare la mappa. Ormai... Ma io non li ritrovo più i passaggi, cioè sono difficilissimi. Comunque ho trovato il mio primo. Ok. Quindi penso che puoi partire. Però non trovo mai passaggi segreti e questa è una cosa brutta. Perfetto. Allora. Poi è tutto uguale, quindi ti ricordi che da una parte... Sei tranquilla, sì? Sì. Ok. Ti dicevo, ti ricordi che da una parte c'è un passaggio, poi ci vai, invece non era quel muro, non era quell'armadietto, c'è un disastro. Eh, un pochino devono essere i tricchi, secondo me. Allora, io non so perché ho il presentimento che Fer è nella mia stessa stanza. No, Stefano. Che mi vede. No, non ti vedo. E che è in un passaggio segreto qua, nascosta. Stefano, c'è bisogno, ti ho detto che non ti vedo. E mi devo rifidare? Sì. Vabbè, vai a vedere, perdi tempo. Eh, lo sto già perdendo, cara. Ok, ok. Mi sa che non ce l'ha davvero. Va bene. Va bene, va bene, va bene. È questione di tempo, cara. Ancora non hai preso la seconda pagina. Te ne mancano quattro. Non mi ricordo però che stanza ho fatto e stanza... No, aspetta. Mi tocca prenderle perché se no mi confondo. Ok, vai. Vedi qua non c'è, infatti. Perché non c'è lì? Ti sei sgobbato le pagine? No, non ne ho mai preso una, cara. Perché era vuota? Forse era una ceste tipo farlocca. Può essere. Capito? Per ingannarti e quindi niente. Come i passaggi segreti. Esatto. Ci sono anche... Esatto. Ok, ok. Anche le ceste farlocche finte. Verso dove andiamo? Verso qua? Non c'è, giusto? Basta picchiare. No, non c'è. Ok. Poi vediamo qua. Non c'è, giusto? Non sembra? Fede. Facciami paura con quella faccia. Allora, io non farò mai più nascondere. No, basta. Deve essere bandita. Allora, raga. Nascondino cobaldi è bocciato. Cioè, non chiedetecene più perché io ho provato a migliorarlo ma Fede è un caso disperato. Si perde nelle scuole. È troppo dispersiva la scuola. Non ce la fa, lo sapete. Ma è una mappa più piccola, dividiamo la scuola a metà e così va bene. Lo sapete che se diciamo vai a sinistra e leva a destra non c'è modo, è irrecuperabile. Quindi ci dobbiamo arrendere. Ci fermiamo così. Qua sotto, come sempre, compariranno altri video. Iscrivetevi al canale e cliccate il campbellino e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.